Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 149esima puntata del podcast di Marcos Box. E fa proprio come si sa che arriviamo a 49 di gradi, appunto sto dicendo 49. Fa un caldissimo affoggio, madonna. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie al mondo del software libero open source. E sarà una puntata, questa qui, che continuerà a parlare della telenovela a stesso momento, quella che sta entusiasmando i pinguini in tutto il mondo, ovvero della situazione Red Hat Enterprise Linux verso il resto del mondo. E vabbè, iniziamo subito, iniziamo subito, dai. Come ben saprete, qualche settimana fa Red Hat ha annunciato che non fornirà più i mezzi affinché i croni downstream continuino a essere copie binarie uno a uno di Red Hat Enterprise Linux. E fra i primi a cadere, e fra i primi a non poter più continuare il proprio lavoro, così come è stato portato fino ad adesso, troviamo Arma Linux. L'Arma Linux Foundation ha deciso, a seguito dell'annuncio da parte di Red Hat, di abbandonare l'obiettivo di essere una copia uno a uno con Red Hat Enterprise Linux. Continueranno a realizzare comunque la distribuzione, che punterà adesso invece ad essere compatibili con l'application binary interface. Per l'utente tipo questo non significa, praticamente, significherà un cambiamento minimo nell'utilizzo di Arma Linux. Le applicazioni compatibili con Red Hat potranno ancora essere eseguite su Arma Linux. E le installazioni di Arma Linux continuano a ricevere aggiornamenti di sicurezza tempestivi. Quello che cambia, la cosa più impattante è che gli sviluppatori della distribuzione non saranno più tenuti a rispettare la compatibilità bug per bug con Red Hat. Il che significa che potranno essere accettate anche correzioni di bug a di fuori del ciclo di rilascio di Red Hat. Se da un lato ciò significa che alcuni utenti di Arma Linux OS potrebbero riscontrare bug che non sono presenti in Red Hat, dall'altro significa anche che gli sviluppatori della distribuzione potranno anche accettare patch per bug che non sono ancora stati accettati a monte o spediti a valle. Al fine di aumentare il livello di trasparenza della distribuzione, gli sviluppatori di Arma Linux hanno anche deciso che verranno inclusi dei commenti nelle patch pubblicate che includono un link a dove è stata presa la patch, da dove è stata ottenuta. È un cambiamento importante per Arma Linux, per gli utenti che speravano di poter continuare a utilizzare una distribuzione uno a uno compatibile con Red Hat Enterprise Linux. Mi dispiace per loro, però ormai il dado è tratto. Però qualcosa bocca in pentola dal lato verde delle distribuzioni Linux, ma ve ne parlo fra poco. Perché parliamo di lato verde? Perché c'è stato un annuncio che ha sorpreso praticamente tutti quanti, perché nessuno se l'aspettava una cosa del genere, Suse, la società dietro Raunzer, New Vector e la più conosciuta, Suse Linux Enterprise, ha annunciato che sta effettuando il fork di Red Hat Enterprise Linux e che svilupperà, manterrà una distribuzione compatibile con Red Hat, disponibile per tutti senza restrizioni. Nei prossimi anni, Suse prevede addirittura di investire più di 10 milioni di dollari in questo progetto e si impegnerà a collaborare con la comunità open source per sviluppare di fatto un'alternativa compatibile a lungo termine per gli utenti di Red Hat Enterprise Linux e di CentOS. Suse intende contribuire a questo progetto facendo, formando, creando una fondazione open source che fornirà accesso continuo e gratuito al codice sorgente alternativo. Quindi Suse decide di scendere in campo per cercare di rapire i cuori di tutti quanti quegli utenti delusi dalla decisione di Red Hat e di limitare le fonti di Regla CentOS Stream e molto probabilmente, visto che è considerato che è annunciato che farà una fondazione secondo me molte delle distribuzioni, quelle minori, passatemi il termine come Aruma Linux di cui vi ho parlato prima, secondo me alla fine confluiranno e uniranno le forze per poter portare avanti questo nuovo fork. La notizia fa strano perché giustamente Suse ha già un prodotto, ha già una sua distribuzione però il mercato è quello, tutti quanti cercano Red Hat Enterprise Linux perché è quella più utilizzata in ambiente business e hanno visto che c'è ciccia per gatti, avranno fatto le loro valutazioni. Adesso bisogna vedere come farà a mantenere una distribuzione compatibile con Red Hat, se sarà bug, bug to bug, vedremo nelle prossime settimane appena si definirà meglio la cosa. Sono davvero molto curioso di vedere come si evolverà la situazione. Continuiamo a parlare di distribuzioni Linux e parliamo della più famosa derivata di Ubuntu, ovvero di Linux Mint con una notizia fresca fresca dell'ultimo minuto, sto registrando questa puntata giorno 16 di luglio e da qualche ora è stata annunciata il rilascio di Linux Mint 21.2 Victoria Questa seconda point release basata sul ramo LTS di Ubuntu, quindi Ubuntu 22.04 è una versione con supporto a lungo termine fino al 2027 viene rilasciata, viene fornita come nelle solite tre edizioni, Cinnamon Mate ed XFCE in particolare l'edizione, quella principale, quella con Cinnamon, vede alcune interessanti novità ma parliamo prima delle novità quelle generali. Le novità generali riguardano principalmente migliori sotto l'aspetto estetico, troviamo un nuovo set di icone, miglioramenti al tema e quant'altro quindi adesso è tutto più carino, più fresco, più moderno. Per quello riguardo invece Cinnamon, il desktop e un sviluppatore di Linux Mint questo giunge alla versione 5.8 e introduce una cosa che molti aspettavano ne conosco parecchi che, personalmente ne conosco anche parecchi che volevano una cosa del genere hanno introdotto il concetto di stili dei temi questo che cosa fa? Va diciamo così a razionalizzare tutta quella marasma di temi che trovevamo preinstallati su Linux Mint che erano difficili anche poi da abbinare adesso abbiamo uno stile definito per ogni tema principale, quindi Mint Y, adito c'è anche quello per AdWaite se non ricordo male. Ogni stile ha tre modalità, un tema scuro, un tema chiaro e un tema misto quindi chiaro e scuro. Ognuna di queste modalità può contenere delle varianti cromatiche quindi dove vengono a variarsi gli accenti. Una variante è una combinazione di temi che funzionano bene insieme, quindi per esempio abbiamo il tigre orange e altre cosine e qua tipo, mi sembra che c'era un arancione con l'antracite, quello in stile diciamo così Ubuntu quindi vanno a migliorare il profilo estetico di Cinnamon e lo vanno a rendere più facile da gestire per gli utenti quindi non vi lasciano più nella decisione di Cinnamon come rabbino sto coso perché non so se vi ricordavate come erano la scelta dei temi prima di Cinnamon 5.8 era un casotto. Miglioramenti poi arrivano anche per quanto riguarda il sistema delle notifiche che sono state ridisegnate e che adesso prendono l'accento del core principale in uso quindi se voi avete il celestino avete la barrettina celestina da sopra quindi si abbina, si sposa tutto perfettamente è stato inoltre aggiunto il supporto per i gesti per la gestione delle finestre, la gestione delle aree di lavoro l'affiancamento e i controlli multimediali i gesti poi sono supportati sia su touchpad che touchscreen che su tablet un'altra cosa che va ad aggiornarsi con questa nuova versione di Linux Mint è un'applicazione che molti utilizzano anche a di fuori di Linux Mint questa applicazione si chiama Warpinator ed è un'applicazione per consentire alle persone di vedersi e condividere i file su una stessa rete locale il più facilmente possibile senza stare a fare configurazioni strane l'applicazione è stata migliorata anche sotto il profilo della sicurezza con l'aggiunta del supporto per Landlock e Pluribog queste tecnologie sono state utilizzate per garantire l'isolamento delle cartelle praticamente adesso Warpinator è tecnicamente incapace di scrivere al di fuori della sua cartella di Dolon dedicata questa è una cosa che è stata introdotta e suggerita dal team di SUS Linux se non ricordo male tra gli aggiornamenti minori abbiamo BlueMan che viene aggiornato alla versione 2.3.5 il supporto completo per fare l'immagine EIF e AVIF e i documenti di Adobe Illustrator adesso sono supportati da XGrid che è il visualizzatore di documenti che troviamo su Linux Mint pochissimi cambiamenti per Mate XF6 perché praticamente non ci sono stati versioni nuove rispetto all'ultimo rilascio fatemi sapere se voi avete provato Linux Mint è una distribuzione che moltissimi utenti apprezzano e che riesce a spalancare le porte del pinguino anche agli utenti anche per la facilità di utilizzo perché viene ridotto al minimo l'utilizzo del terminale e parlando di distribuzioni che strizzano l'occhio a Windows nell'aspetto Luca ha pubblicato un suo editoriale dove ci parla di due distribuzioni nello specifico la prima è Ubuntu che è un progetto che partendo da Ubuntu mira a ricreare fedelmente sia Windows 10 che Windows 11 quindi il look and feel dei sistemi operativi Microsoft il sito praticamente è collegato a una società brasiliana da quel che si può vedere ti fa scaricare gratuitamente una free edition e c'è la possibilità di acquistare una professional key per avere un supporto dedicato a ben 35 dollari la versione 10 utilizza Cinnamon per ricreare l'ambiente desktop non è nugo di nuovo di fatto perché praticamente se voi andate a vedere circolano già da tempo dei temi che vanno a scimmiottare Windows 10 su Cinnamon ci sono alcune criticità che ha fatto emergere Luca nel suo articolo perché di fatto questa edizione è un mix di componenti c'è Cinnamon, la schermata di login è quella di KDE lo storico di applicazione è Gnome Software troviamo una suite d'ufficio che non è quella canonica di solito ci stanno tutte le distribuzioni per il libero office ma troviamo invece OnlyOffice quindi stanno un mix un po' di cose prestagate troviamo addirittura anche Edge il client OneDrive cioè è bella infarcita di cose prese qua e là la versione 11 invece di Ubuntu è più carina graficamente e utilizza Plasma Plasma sapete rende l'interfaccia un pelo più coerente quindi i pezzi non sembrano messi appiccicati qua e là e devo dire dagli screenshot che ha postato l'effetto Windows 11 sembra ricreato in maniera ottima parlando invece poi di distribuzioni che si ispirano sempre a look and feel di Windows però mettendoci del loro con una certa personalizzazione quindi non è una copia 1 a 1 troviamo OpenKirin ve ne avevo parlato nella scorsa puntata del podcast di Marcos Box che è una nuova distribuzione cinesi e completamente indipendente che usa il desktop environment ucui quello che abbiamo già visto su Ubuntu Kirin e in questo suo articolo recensione Luca ci fa vedere alcuni screenshot della distribuzione io veramente la volevo scaricare ho visto dei tempi biblici per poterla scaricare perché non riuscivo mai a trovare il tempo di lasciare il computer acceso per poterla scaricare e ho desistito ma Luca è stato più fortunato di me anzi ha avuto più testardo di me quindi l'ha provata l'ha provata seppur in macchina virtuale e sulle pagine sull'articolo ci sono una serie di di screenshot che mostrano com'è l'ambiente del desktop fa vedere un po' il parco software installato e davvero sembra davvero carina fatemi sapere voi che cosa ne pensate andate a leggere l'articolo facendo un commento fatemi sapere soprattutto se trovate queste queste distribuzioni fatte in questa maniera una cosa brutta che scimmiotano Windows una cosa inutile un consumo inutile di risorse e tempo di sviluppo oppure se vi piacciono queste cose passiamo adesso a parlare di desktop environment non ancora nati ma che promettono davvero bene e parliamo di Cosmic Day il desktop environment scritto in Rust che vedremo in futuro su PopOS la distribuzione realizzata da System76 produttore di computer equipaggiati con Linux statunitense che sviluppa questa distribuzione PopOS che attualmente è basata su Ubuntu e utilizza GNOME con una serie di estensioni per avere un ambiente desktop personalizzato che è una distribuzione che apprezzo particolarmente che io sto utilizzando oramai da diversi mesi in pianta stabile e non riesco a rimuoverla cioè non vedo il motivo di rimuovere la distribuzione perché di fatto funziona bene poi mi sto tenendo alla larga così da tutti quanti gli snap perché PopOS utilizza Flatpak come alternativa e sta funzionando bene infatti c'è un pensiero provatelo anche voi però System76 gli sta stretto GNOME e ha deciso di sviluppare come dicevo prima un desktop environment scritto in Rust ve ne ho parlato diverse volte in questi mesi da quanto è stato annunciato e adesso System76 ci pubblica un nuovo aggiornamento sullo sviluppo del suo desktop environment il primo riguarda il ridimensionamento frazionario che finalmente è stato aggiunto anche a Cosmic Day che cos'è il ridimensionamento frazionario nel senso che adesso potete ridimensionare anche in frazioni non solo 100-200% ma avremo 100-125 150-70% e questo è una cosa utile che è molto apprezzata da chi utilizza schermi con altre risoluzioni l'altra novità riguarda il ridimensionamento della finestra adesso è stato introdotto un sistema di ridimensionamento delle finestre che funziona sia con i mouse che con le testerie le finestre affiancate allineate con quella che viene ridimensionata vengono ridimensionate per mantenere i layout allineati è difficile da spiegare andatevi a vedere lo screenshot su anzi l'animazione che si è postata sull'articolo dedicato sul blog perché vi spiega vi fa capire subito che cosa significa questa gestione del ridimensionamento delle finestre come è stata introdotta come è stata pensata per Cosmic Day è stato aggiunto poi un modulo all'interno del pannello delle impostazioni per il ridimensionamento dello sfondo la gestione del testo è stata migliorata grazie all'arrivo di Cosmic Text che è quella parte del del desktop environment che va a gestire la gestione dei testi delle scritte questa nuova versione supporta il testo multilineo in Cosmic e anche un miglioramento delle prestazioni con l'aggiunta di alcune funzioni per mantenere il testo sempre più fluido è stato fatto poi invece un lavoro per quanto riguarda il demonet delle notifiche di Cosmic che attualmente è in fase di sviluppo che consente alle applet di poter visualizzare le notifiche su più schermi ed impedire che le notifiche vengano visualizzate su tutti e più i schermi quindi una gestione più di fino delle notifiche è ottima per chi ha più schermi quindi magari ti metti le notifiche soltanto sullo schermo principale oppure su quello secondario in modo tale da gestirvi i vostri spazi di lavoro in maniera più ottimale andatevi a leggere l'articolo sulle pagine di Marcosbox ci sono i screenshot che meglio spiegano perché spiegare a parola tutto sto marasma e mi rendo conto che effettivamente è impossibile ed è noioso per chi lo sta ascoltando quindi correte a leggere il blog e parliamo adesso di applicazioni che si sono aggiornate e c'è stato in queste settimane un rilascio molto importante per Thunderbeard che ha visto il rilascio della versione 115 nome in codice super nuova quella che a tutti gli effetti può essere definita come la versione più bella e veloce di sempre Thunderbeard 115 super nuova va a migliorare l'interfaccia utente con una visualizzazione schede modernizzata che è comodissima perché è perfetta perché è abituato alle moderne webmail con una visualizzazione a schede che emula un'interfaccia mobile con supporto di più righe pensata a detta degli sviluppatori di Thunderbird per rendere più confortevole la visualizzazione delle medie e ridurre il carico cognitivo miglioramenti poi sono stati fatti con la barra degli strumenti che è stata resa dinamica con la presenza di opzioni contestuali e opzioni per le funzioni utilizzate più di frequente in base alla scheda e allo spazio attualmente in uso un app menu più intuitivo il menu applicazione è accessibile da tastiera ed è stato riprogettato per una navigazione più rapida e semplice è stato migliorato il design del calendario sono state migliorate anche la visualizzazione dei vari tag per rendere tutta la gestione della serie di post dei tag per tag per esempio mettere il tag lavoro una serie di mail importanti quelle da rispondere dopo adesso sono tutte belle con le icone colorate tutto più più carino tutto più bello da vedere tutto più immediato ecco forse è meglio dire così è stata migliorata poi la rubrica è stata migliorata anche sotto il comparto accessibilità sulle pagine di marcosbox ho trovato una serie di screenshot che vi fanno vedere quali sono le novità dell'interfaccia e io non lo sto utilizzando tante non lo utilizzo tante ormai da secoli perché mi sono convertito webmaker ormai da da qualche anno però in passato ho utilizzato thunderbolt ed uno dei punti deboli era proprio l'interfaccia che era era un po' vecchiotta adesso adesso è bella a me piace fatemi sapere voi che cosa ne pensate e concludiamo questa 149 puntata del podcast di marcosbox parlando di google bard che è finalmente disponibile in italia quindi adesso non dovete più utilizzare un servizio vpn per poterlo provare è disponibile è localizzato in italiano basta avere un account google e per l'occasione ho chiesto a google bard di parlare di se stesso ho chiesto di scrivere un articolo sull'arrivo di google bard in italia e devo dire che a parte lo strafaccione iniziale perché praticamente ha sbagliato la data di lancio ha scritto che google bard è arrivato in italia il 15 febbraio 2023 cosa assolutamente non vera perché è arrivato il 13 luglio 2023 per il resto sembra aver scritto cose sensate sembra essere abbastanza scorrevole in quello che scrive quindi si legge bene ecco lo sto provicchiando un po' mettendolo a confronto con con chat e gpt più o meno si equivale non vedo non vedo cose a favore di uno o a favore dell'altro forse anzi magari forse chat gpt è un po' scafato per alcune domande un po' più a trabocchetto anche google bard devo dire che si rifiuta di rispondere alla stessa domanda che ho fatto a chat gpt ovvero quella di darmi 6 numeri vincenti a super nalotto tra prende si rifiuta anche di rendermi l'uomo più potente del mondo e darmi consigli su come fare quindi è un po' cattivello sotto questo punto di vista scherzi a parte sono domande che sono state ovviamente non può non può rispondere per motivi motivi vari diciamo così però se mi dava 6 numeri vincenti a super nalotto non è che mi ancazzavo ho provato a girare poi la solita domanda prima gli ho chiesto dammi 6 numeri vincenti a super nalotto non me l'ho voluto dare perché dice che non può dare delle previsioni e compagnia bella poi ho detto dammi 6 numeri da 1 a 96 dei numeri casuali e me l'ha dati quindi è un po' tontino cioè sarebbe stato carino magari se l'intelligenza artificiale avesse fatto un collegamento tra la domanda posta un mezzo secondo prima e quella posta un mezzo secondo dopo per per continuare a dire wey giovane io perché mi stai chiedendo sta cosa mi vuoi prendere in giro e invece no si fa fregare bellamente ah e per la cronaca i numeri che mi ha dato il super nalotto quelli casuali che non gli ho specificato perché gli esseri dei zoom il super nalotto non hanno portato a nessuna vincita quindi manco manco un numero azzeccato quindi sono ancora povero come capito comunque fatemi sapere voi che cosa ne pensate di google bar se lo preferite a chat gpt se lo avete provato o se siete tra la figa di tutti quegli utenti che mi hanno già contattato sui diversi social che si terranno bellamente lontano da google bar per motivi ovviamente di privacy perché stiamo dando a google toppe informazioni sui numeri che possono essere utilizzate ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 149 puntata del podcast di marcosbox come sempre vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i social mi trovate su facebook mi trovate su twitter mi trovate su youtube anzi iscrivetevi al canale su youtube così mi fate un po' di follower e visualizzazioni e magari riesco ad arrivare ai 1000 che mi servono per poter attivare la monetizzazione no scherzi a parte mi serve per gonfiare soltanto il mio google fatto dei 1000 perché fa figo avere 1000 iscritti comunque mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su linkedin mi trovate su mastodon mi trovate soprattutto su telegram dove c'è il canale principale dedicato alle notizie da marcosbox dove ho detto anche cose che non c'entrano niente con gli articoli di marcosbox trovate poi la community telegram collegata al canale principale nella quale potete commentare le notizie ma parlare di qualsiasi cosa vi passa per la mente perché c'è cazzeggio libero e infine trovate anche un canale telegram dedicato alle offerte amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando con il mio codice referral che comunque trovate anche riportato sulle pagine di marcosbox marcosbox trattino 21 infine se volete supportare marcosbox potete farlo anche acquistando una vpn a scelta vostra tra nordvpn surfshark e atrasvpn utilizzando i miei link affiliazioni che trovate sulle pagine di marcosbox tutte tre vpn fanno parte tutta della stessa famiglia di nordvpn che le acquisite praticamente tutte hanno delle caratteristiche peculiari una dall'altra trovate poi un articolo su marcosbox che vi fa un riassunto delle principali novità tra queste vpn i prezzi più o meno sono simili sono quasi allineati vabbè con questa ultima notizia si conclude qui la puntata lunga vita e prosperità ciao ciao novità 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 Grazie a tutti.